intendo la scultura come armonia di chiari e di scuri che si rincorrono con ritmi contrasti riposi e volumi che si delineano nello spazio aderendo perfettamente al fantasma che ho dentro di me. Lavoro solamente quando ho maturato la visione dentro di me e se non avessi scopi precisi non potrei mettermi all'opera. Arriverò a realizzare certe statue nelle quali unirò lo spirito maschile con quello femminile. Fazzini che sta facendo adesso? Vedi sto facendo questa parte di panneggio, il principio, questo è il principio di questo blocco ancora in forma del cristallo. Che materiale è questo? Poi ci rovo, poi ci sarà il tempo per la fusione, quindi non so quanto per la fusione veramente non saprei quanti mesi ci vorrà. Voglio scolpire il sublime, l'unione di una cosa terribile e bellissima, un'atroce esplosione, un vortice di violenza ed energia, la potenza della risurrezione del Cristo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La vera arte è Dio e la nostra anima è l'opera. lo spirito che consumo sulla pietra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.